Auguri! Al ristorante La Fugascina di Mergozzo la tradizionale cena di Natale di Aisverbania, l'occasione per un brindisi di auguri ma anche per fare un bilancio sulle attività dei nostri sommelier. Quest'anno abbiamo tirato delle somme importantissime perché abbiamo avuto tra serate, incontri, servizi, 72 impegni diversi. 82 impegni distribuiti su tutto il territorio e questa è la cosa che ci piace di più. Abbiamo avuto parecchi corsi che non si sono limitati al terzo livello che ha chiuso quest'anno con un numero altissimo perché erano 72 i partecipanti e 56 i diplomati, che è un numero molto alto. Per noi che siamo piccolini è stato di grande soddisfazione. Poi corsi nelle biblioteche, poi serate a tema con la Borgogna, poi abbiamo fatto i vini della Loira, insomma ne abbiamo tantissimi di motivi di orgoglio e di contentezza perché è stato un anno molto molto pieno. Abbiamo sentito dei diplomati ma quest'anno c'è un motivo d'orgoglio in più per la Brigata. Eh sì, quest'anno noi abbiamo avuto due relatori ufficiali nazionali, per cui molto importante, abilitati Roberto Baldo e Paolo Carmine. Una scelta non casuale quella della location per la festa di fine anno, uno dei titolari e tra i più vecchi soci AIS della delegazione. Vent'anni di AIS e con grande piacere, con grande onore. Sono molto felice che questa sera siano qua nel nostro locale, era una cosa che ci tenevo e ci speravo. Con il nostro chef Gabriele questa sera abbiamo pensato di preparare un po' di lago, abbiamo il lago a 20 metri e un po' di mare. E poi finiamo con la carne piemontese. Per AIS Verbagna intanto anche i propositi 2020. Il primo più importante è il primo livello che riparte, diciamo importante perché per noi è fondamentale fare questi corsi, avere sempre gente che ha voglia di venire a conoscere il mondo del vino al suo interno. Per cui parte di nuovo il primo livello, il 4 marzo, abbiamo già parecchi iscritti. E poi il grande evento, vino sostantivo femminile, il primo marzo a Stresa, al primo incontro dedicato esclusivamente alle donne produttrici di vino. Auguri!